Io sono sempre stato convita e oggi più che mai sto convita perché in questa crisi, in questa precipitazione della fiducia che soprattutto sta segnando l'Italia c'è bisogno di storie positive, di storie dal terzo settore, di storie di dono, di relazioni di dono, di relazioni di fiducia, di relazioni che costruiscono il capitale sociale. Grazie a tutti.